Musica Nasce Ismia Investe, uno strumento finanziario destinato a sostenere i progetti di sviluppo dell'intera filiera agroalimentare, dalla produzione agricola alla trasformazione industriale sino alla distribuzione e alla logistica. Equiti, quasi equiti, prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi fino a 20 milioni di euro sono le opportunità messe in campo da Ismia. La presentazione dello strumento ha visto coinvolti il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patonelli, il presidente dell'Ismia Angelo Frascarelli, il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini e il responsabile della direzione servizi per le imprese Ismia Giorgio Venceslai. Nel corso dell'incontro hanno portato le loro testimonianze alcune aziende che hanno usufruito degli strumenti finanziari messi in campo da Ismia per sostenere i propri piani di investimento. Lo sviluppo dell'agroalimentare italiano è guidato dall'innovazione tecnologica, dalla transizione ecologica e dall'internazionalizzazione per aumentare la competitività del Made in Italy all'estero e quanto è emerso nel corso dell'evento. Penso che anche nel settore agroalimentare, come in tutti i settori industriali, il tema della capitalizzazione dell'impresa sia un tema da affrontare perché l'impresa sottocapitalizzata ha difficoltà di accesso al credito e quindi ha difficoltà di investimento. Quindi sono molto contento di poter, assieme al presidente Frascarelli, presentare questo nuovo prodotto Ismia Investe in cui Ismia accompagna la capitalizzazione delle imprese che i privati dovranno fare. È un prodotto a rischio di mercato e questo sarà il massimo impegno che Ismia dovrà approfondere proprio per la valutazione dei progetti. una dotazione di 60 milioni di euro iniziale con investimenti che avranno un taglio fino a 20 milioni a progetto. Quindi credo che sia un modo per star vicino agli investitori che vogliono investire fidandosi della capacità imprenditoriale degli imprenditori con Ismia che accompagnerà pareggiando l'intervento di capitalizzazione dell'imprenditore nel capitale sociale dell'impresa. Penso che sia il modo giusto per sostenere la crescita e le capacità di investimento degli imprenditori agroalimentari italiani. Hanno bisogno innanzitutto che il nostro paese protegga le distintività delle produzioni agroalimentari italiane, questo lo stiamo cercando di fare in tutti i tavoli. Abbiamo bisogno di pensare al sistema paese come un sistema che deve marciare compatto contro il tentativo di omologazione dell'agricoltura italiana e anche da questo punto di vista vedo la strada in discesa perché vedo grande consapevolezza negli imprenditori agroalimentari italiani. C'è bisogno di una spinta di innovazione. L'agricoltura è un settore conservatore che però sta capendo quanto beneficio può avere dall'innovazione anche in termini di tutela ambientale e di sostenibilità. Credo che siano queste le necessità. Abbiamo gli strumenti, abbiamo le risorse, abbiamo le capacità sta solo a noi canalarle nel modo giusto. Questo servizio che presentiamo oggi si chiama finanza a condizione di mercato, lo diceva adesso il ministro Patuanelli. Vogliamo supportare le imprese che vogliono investire, investire su che cosa? Su progetti innanzitutto nazionali che si basano sulla produzione agricola nazionale, progetti di produzione, trasformazione, distribuzione. Seconda questione, vogliamo investire su progetti che vanno nella direzione della qualità e della sostenibilità, come diceva prima il ministro Patuanelli. Gli imprenditori che vogliono crescere e che vogliono avere una capitalizzazione per poter supportare la crescita possono trovare in Ismea già dal prossimo mese questo strumento attivo che attiveremo con un bando. Poi chiaramente Ismea farà un'istruttoria dei progetti. Ismea è un istituto pubblico economico che fa riferimento al Ministero delle politiche agricole. Noi ci occupiamo sostanzialmente di tre elementi importanti che sono lo sviluppo di imprese, non solo imprese agroalimentari, anche in questo caso oggi stiamo presentando un prodotto per le grandi imprese agroalimentari da 2 a 20 milioni di euro di capitalizzazione, ma anche per le piccole e medie imprese, quindi imprese agricole che vogliono ampliare la propria struttura aziendale, imprenditoria femminile, perché ci portiamo dietro l'ex cassa della formazione e la proprietà contadina. Poi facciamo analisi di mercato. In questo momento sono importanti perché noi dobbiamo garantire trasparenza sul mercato e evitare pratiche sleali. Terzo elemento, la gestione del rischio. Oggi la gestione dei rischi agricoli, le avversità climatiche e fitopatologiche sono un elemento fondamentale degli agricoltori, anche di questo si occupa Smea. La presentazione dello strumento finanziario è avvenuta nel contesto della fiera dell'ortofrutta di McFruit in cui gli operatori del mondo agricolo sono tornati a confrontarsi in presenza. Devo dire una cosa, noi fino a un mese fa, un mese e mezzo fa, questo sembrava un sogno, perché chiaramente la situazione all'estero in alcuni casi è molto peggiore. Devo dire che alcuni operatori esteri hanno fatto, sono in giro da giorni per riuscire ad arrivare in Italia e quindi questa cosa ci fa un grande piacere. Abbiamo fatto tante presentazioni nell'ultimo anno e mezzo, chiaramente non ci potevamo spostare, quindi abbiamo fatto le presentazioni digitali e io invito tutti a visitare ad esempio il padiglione africano, ci sono stand della Georgia, del Libano, anche molti paesi che è la prima volta che vengono, quindi è una cosa molto interessante. Io, le dico la verità, per natura non sono mai soddisfatto perché chi si ferma è perduto nel mondo del business, finché uno ci sta deve sempre pedalare, non può mai smettere di pedalare. Però devo dire che questo dimostra ancora di più che bisogna crederci, che per fare imprenditoria ci vuole visione e coraggio, il coraggio se non ce l'hai non te lo dà nessuno. In tutte le cose, i momenti di difficoltà sono i momenti dove si aprono delle opportunità. Io vi ricordo che noi siamo stati l'unica fiera che nel 2020 abbiamo chiuso inutile, grazie al digital. Molte altre fiere hanno fatto così una roba un po' inventata, noi invece per noi è stata una strategia vera e propria e abbiamo salvato il nostro bilancio. I nostri dipendenti hanno fatto un'ora di cassa integrazione, ricordo che ci sono dei dipendenti feristi che sono 7-8 mesi che sono in cassa integrazione. Tutto questo non è frutto del caso. Ci abbiamo creduto nei momenti di difficoltà. Uno ha più coraggio perché non rischia tanto, peggio di così, è difficile andare. Quindi io credo che questo possa essere anche un po' da stimolo, un po' per tutto il settore che non se la passa benissimo, in particolare il settore dell'ortofrutta, la produzione è in difficoltà, però direi che dei momenti di difficoltà possono venire fuori anche delle idee molto interessanti.